Nella sala giunta del comune di Castrovillari, il briefing finale della prima edizione del Cantico dei Pastori, il progetto dell'amministrazione comunale per la direzione artistica a quattro mani di Tildeno Cere e Renato Zicari. Le associazioni coinvolte nel presepe vivente sono state ricevute dal vice sindaco Francesca Dorato, dal consigliere Antonio Notaro e dai due direttori artistici. Ultimi accorgimenti prima di andare in scena i prossimi 26 dicembre e 4 gennaio 2019, con inizio alle ore 17.30. Il centro storico della città del Polino sarà teatro della natività con il presepe vivente del 700 napoletano. E anche ultimi accorgimenti per quanto riguarda i vestiti realizzati artigianalmente dai vari personaggi che animeranno un presepe vivente in 3D, dove il pubblico sarà protagonista. La rappresentazione tra una serie di momenti con personaggi e luoghi sapientemente raffigurati e ricostruiti, grazie a capacità appassionate e desiderose a far riflettere e ripensare sulla tenerezza di quel bambino venuto al mondo oltre 2000 anni fa. Siamo praticamente vicino alla bottega di uno di coloro che hanno partecipato a questo progetto e che è un artigiano famosissimo non solo nella nostra città, che con i presepi ci sa fare. Angelo Chirillo è il maestro, scultore, figlio di un grande maestro. Entriamo insieme perché lui sarà un personaggio importantissimo per questa realizzazione del presepe. Allora maestro, un progetto ambizioso questo del presepe vivente, inteso come rappresentazione del presepe del 700 napoletano. Quando ti è stato detto come hai preso la notizia? È stata una cosa bellissima, bella l'idea di Tilde, di rappresentare il 700 napoletano, cosa che io faccio nei miei presepi quindi da tempo e che ha tutta una sua simbologia e sacralità che sono penso alla base del presepe napoletano. Diceva Tilde che molte similitudini ci sono nel borgo antico, nel centro storico di Castrovillari in riferimento a questo tipo di presepe. Sì, sia a livello paesaggistico e anche a livello di luoghi che sono poi sia un ritrovo e sono poi anche dei simboli veri e propri. Questi simboli li poi io li riporto nei vari presepi, quindi quella tradizione contadina, quella tradizione artigianale che è popolare, certo, che è alla base proprio del presepe napoletano. Siamo praticamente quasi addirittura d'arrivo, meno 96 che sono le ore che mancano alla prima rappresentazione, abbiamo visto il percorso vice sindaco, grande lavoro. Parliamo un po' dei numeri, quante maestranze sono state messe a disposizione per realizzare questo progetto? Sì, un bellissimo percorso realizzato con l'aiuto di tanti e che vedrà per l'appunto un numero importante di partecipanti, tante le associazioni, tante le persone che hanno aderito, accogliendo con un entusiasmo impressionante questa idea dell'amministrazione comunale. Grazie anche, devo dire, alle grandi capacità che ha Tilde di coinvolgere le persone, possiamo dire veramente di non aver lasciato nessuno da parte. E devo dire, cogliendo anche questa occasione per ringraziare tutti, che il lavoro che stanno portando avanti è un lavoro importante, è un lavoro che davvero li sta vedendo impegnati tutti, in prima persona, in tantissime ore della giornata. Anche perché, come dicevi bene tu Carlo, ormai ci siamo, siamo arrivati e quindi è importante essere presenti ed è importante stringersi insieme per far sì che questo progetto decolli. E l'anno zero, l'abbiamo detto, ma io sono convinta che ha tutti i numeri per poter andare avanti e per poter crescere. Consigliere, avere nella propria squadra a bordo il maestro Chirillo, che insomma di Presevi se ne intende, vi dà ancora di più quella forza necessaria anche per andare oltre le avversità che comunque ci sono. In un progetto così complicato, insomma qualche intoppo c'è, ma insomma avere dalla propria parte chi di questo settore ne ha fatto una ragione di vita, insomma, riempie il cuore. La presenza del maestro Chirillo dà sicuramente valore e importanza a tutto il lavoro che è stato compiuto da questa grande squadra che ha messo su Tilde e Renato, che sono appunto i direttori artistici di questo evento. E soprattutto danno forza all'amministrazione comunale per poter riproporre, perché questo, come abbiamo già detto più volte, è l'anno zero di questa manifestazione, far sì che questo diventi oramai un evento che possa essere riproposto negli anni e che possa coinvolgere ancora di più tante altre associazioni e tante altre maestranze per rendere ancora più visibile e più importante l'evento stesso. E quindi è un evento che sicuramente crescerà nel tempo, ma che insieme consentirà di far crescere e di valorizzare ancora di più le nostre grandi eccellenze, tutte quelle eccellenze che il territorio può offrire. Il Cantico dei Pastori